Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qua per la conferenza stampa che abbiamo voluto organizzare in preparazione della conferenza nazionale autoconvocata sulle droghe che si terrà a Milano il prossimo 28 e 29 febbraio. Abbiamo fortemente voluto questa conferenza, la conferenza autoorganizzata, perché la legge 309 del 90 compie 30 anni e gli effetti della legge sono sotto gli occhi di tutti. Sappiamo gli effetti che ha avuto sul carcere, sappiamo gli effetti che ha avuto sulle persone che fanno uso di sostanze, sappiamo gli effetti che ha avuto nell'organizzazione dei servizi. Abbiamo in questi anni assistito a criminalizzazione delle persone, a patologizzazione, a stigma delle persone e non solo delle persone, anche da un certo punto di vista degli operatori che lavorano nei servizi rivolti alle dipendenze. Basta pensare a come ultimamente la stampa, per esempio, è tornata a parlare di sostanze, utilizzando il termine droga piuttosto che droghe, come se le sostanze fossero tutte uguali e tutte estremamente pericolose, non solo e non tanto per quanto riguarda la salute delle persone, ma dal punto di vista proprio della convivenza civile. risultati di questo approccio repressivo e della regressione culturale che c'è stata in questi anni sono sotto gli occhi di tutti. È di pochi giorni fa, per esempio, la notizia che nelle scuole di Verona è stato proposto non solo e non soltanto il controllo con i cani antidroga, ma anche il controllo delle urine degli studenti di quella scuola. E contemporaneamente collateralmente a questo si è avuto un grandissimo impoverimento dei servizi, che è vero che sta dentro un impoverimento di tutti i servizi territoriali, penso ai consultori, penso alla salute mentale, ma è un impoverimento dei servizi dovuto proprio a come si ragiona in termini di sostanze, di uso, di abuso e di dipendenze, dovuto al fatto che non si investe nei servizi pubblici e del privato sociale, che in questi anni molto hanno fatto rispetto alle politiche di salute, e non si valorizzano gli operatori, una per tutte. Si lamenta sempre un'assenza degli operatori pubblici dal dibattito sulle droghe. Non si considera che il personale dipendente dei CERD non solo è stato assolutamente ridotto dai mancati investimenti, dai blocchi delle assunzioni anche a seguito del turnover, ma che quelle poche sostituzioni che sono state fatte, sono state fatte esclusivamente con personale precario. Eppure sono a disposizione studi che dimostrano che quello che si sta facendo, di cui parlavo prima, non è coerente né con le evidenze scientifiche, né con la pratica quotidiana appunto degli operatori che costantemente si confrontano con il tema dell'uso e dell'abuso delle sostanze. Dimostrano questi studi che molto di quello che si crede di sapere è assolutamente sbagliato. Un inciso. Pochi giorni fa abbiamo presentato in CGL il testo di Zimberg, Droga, Set e Setting, finalmente tradotto in italiano dopo che era stato pubblicato nell'84. Testo fondamentale che dimostra appunto quello che ho provato a dire con uno slogan. Molto di quello che si sa sulle droghe è profondamente sbagliato. E si attribuisce alle sostanze conseguenze che non sono legate alla sostanza, ma al tipo di uso, al set e al setting. Quindi è necessario capire come stanno davvero le cose per indirizzare le politiche e l'organizzazione dei servizi in maniera adeguata, per rispondere ai bisogni veri delle persone in termini di salute, di sicurezza, sicurezza intesa non come decoro o in termini sicuritari, ma come sicurezza sociale, sicurezza delle città in termini di vivibilità e convivenza civile e quindi di benessere. Perché sono state attribuite, come dicevo, al consumo di droghe le conseguenze sociali e in termini di salute individuale e pubblica che invece sono da attribuire alle politiche antidroga di questi ultimi trent'anni. Una dimostrazione è che anche gli Stati Uniti stanno rimettendo in discussione la War on Drugs. E noi che cosa facciamo? Non è un caso che la conferenza che la legge prevede venga organizzata ogni tre anni non viene più convocata dal 2009. E per questo, dopo Genova nel 2014 e Milano nel 2015, abbiamo fortemente voluto questa conferenza nazionale autoconvocata che, come dicevo, si terrà a Milano il 28 e 29 febbraio. Da molti anni, come associazioni, organizzazione della società civile, ci occupiamo di politiche sulle droghe. Di ricerca proviamo a produrre conoscenza e cultura, anche con la pubblicazione ogni anno del Libro Bianco sulle droghe. Chiediamo alla politica di avere il ruolo che dovrebbe avere e che le spetta, di assumere il tema delle droghe, non in maniera esclusivamente emergenziale per cui se ne parla e come se ne parla ogni volta che c'è un'emergenza, un fatto drammatico, e di convocare la conferenza e di istituire gli organismi preposti e previsti dalle norme. Del resto, già a marzo 2019 avevamo inviato una lettera di diffida a questo riguardo al Governo, lettera che non ha mai ricevuto nessuna risposta. Giacciono in Parlamento poi diversi disegni di legge, di riforma della 309, di legalizzazione della cannabis e ricordiamoci che quando si parla di legalizzazione della cannabis c'è un tema assolutamente importante che è quello che riguarda la possibilità di accesso alle cure per le persone e di depenalizzazione dell'uso personale. Le esperienze di Paesi che hanno legalizzato la cannabis ci dicono che è possibile farlo con ricadute positive in termini di salute e sull'economia, che legalizzare non produce una esplosione dei consumi, tutt'altro, che toglie linfa e spazi alla criminalità organizzata. A Milano vogliamo discutere di come si possa produrre il cambiamento su tutti questi temi che ho provato soltanto a enunciare, di come si possono pensare e agire politiche efficaci nei confronti dell'uso e dell'abuso di sostanze. Ricordiamoci che se vogliamo avere uno sguardo obiettivo sul tema sostanze, dipendenze, dobbiamo renderci conto che esiste un uso controllato e che molti consumi ormai si sono normalizzati nella società attuale. E dobbiamo pensare anche che ci sono nuove dipendenze delle cui forse anche strumentalmente si parla molto poco. Mi riferisco per esempio al gioco d'azzardo, alla dipendenza da internet, a quello insomma che sappiamo. E vogliamo parlare di come si possono valorizzare i servizi nell'ottica della riduzione del danno e della limitazione dei rischi. Perché la riduzione del danno è entrata nei livelli essenziali di assistenza ormai nel 2017, ma ad oggi ben poco, molto poco, troppo poco è stato fatto riguardo a questa pratica che ha dimostrato ampiamente il proprio valore e la propria efficacia. Questa riteniamo che sia una battaglia di tutti, che ci deve vedere tutti insieme, tutti coinvolti, perché parla di diritto alla salute, di diritto all'autodeterminazione, di diritto alle cure per tutte le persone, indipendentemente dalle scelte di vita che fanno. Ecco, dopo di me interverranno altri colleghi con i quali abbiamo da tempo lavorato intorno alla costruzione della conferenza, che prevedrà un momento internazionale proprio per quello che provavo a dire prima, perché ci sono esperienze in giro per il mondo negli stessi Stati Uniti che ci dicono di come se c'è la volontà politica le cose si possano fare. Ci saranno interventi di operatori che da anni lavorano sul tema delle sostanze e delle dipendenze e interrogheremo la politica perché si assuma le responsabilità che è davvero il momento che si assuma se vogliamo provare a invertire questa tendenza appunto che vede le persone finire in carcere, che vede un sovraffollamento carcerario di persone che non hanno commesso reati e che vede affrontare appunto il tema delle sostanze in maniera sbagliata e controproducente. Grazie. Io darei la parola adesso, scusatemi perché altrimenti non se la prendono ognuno per conto proprio, a Fabrizio Mariani che è responsabile per il CNCA del Dipartimento Dipendenze, non imparerò mai come si chiama Fabrizio, però quello è tu sei responsabile. Dopodiché parla Alessio Guidotti, rappresentante di Itampud e poi Stefano Vecchio, presidente di Forum Droghe. Successivamente ci saranno altri interventi che verranno presentati nel momento in cui ci diamo il cambio al tavolo. Sì, grazie Denise. CNCA è il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza e siamo la rete nazionale, la federazione nazionale più ampia, più vasta di organizzazioni del terzo settore impegnate ogni giorno sul tema dei consumi e delle dipendenze. Lo facciamo con i nostri tanti operatori che sono impegnati nelle nostre comunità terapeutiche, nei servizi di strada, le unità di strada, la riduzione del danno, la prevenzione sui territori. Denise ha giustamente accennato al fatto che la legge sulle droghe attuali, il DPR 309 del 90, è una legge ingiusta, che esprime un approccio securitario, punitivo, e ha dimostrato in questi 30 anni la sua palese inefficacia. E proprio per questo la sua inefficacia si è espressa, tra l'altro anche con dati ed evidenze scientifiche, ricerche che abbiamo fatto come CNCA, insieme ai colleghi delle altre sigle che sono presenti oggi, ma lo vediamo anche dalla stessa relazione al Parlamento, che è stata licenziata non molto tempo fa. Un aumento delle morti per overdose, un aumento delle persone incarcerate per una interpretazione discrezionale dell'articolo 73 della legge 309. Abbiamo sicuramente un aumento della disponibilità sul mercato dell'eroina, così come un maggiore accesso in termini quantitativi da parte dei giovani delle nuove sostanze psicoattive. Ecco, tutti questi fattori ci devono far riflettere, far pensare che occorre necessario una profonda riflessione dal punto di vista legislativo, dal punto di vista normativo, dal punto di vista dell'organizzazione e della messa a disposizione di servizi, dell'offerta di servizi che possono correre al passo coi tempi, con i bisogni mutati, bisogni nuovi, perché sono comunque bisogni correlati direttamente a nuove sostanze, nuove tipologie di consumo, nove fasce di popolazione che consumano sostanze. Quindi c'è attualmente purtroppo in Italia un'estrema frammentarietà, disomogeneità dell'offerta dei servizi rivolti a consumatori, alle dipendenze. Lo vediamo dal fatto che ogni regione ha un proprio sistema, una propria organizzazione. Vediamo che, ad esempio, se pensiamo ai servizi per la doppia diagnosi, questi esistono in metà delle regioni italiane, così come servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi, così centrali e strategici nel nostro lavoro, manchino in tutto il centro-sud dell'Italia. Così come vediamo che anche le più elementari misure alternative alla detenzione spesso e volentieri vengono disattese per problemi dei territori. Ecco, allora quindi cosa si può fare? Occorre andare sicuramente a riclassificare parametri e standard di offerta terapeutica, di riduzione del danno, di prevenzione, che sia adeguato a nuovi fenomeni, nuovi bisogni. Ho accennato prima le nuove sostanze psicoattive, ma pensiamo a tutte quelle che sono le nuove piazze di acquisto delle sostanze nel cosiddetto dark web. Occorre declinare questa offerta di prestazioni quindi per tipologia di utenza, per modelli di accoglienza diversi, per reali obiettivi di fase e di cura, le droghe non sono tutte uguali. Chi consuma droghe non è uguale agli altri perché comunque occorre una personalizzazione dell'offerta, del servizio, in modo che sia realmente compatibile e consistenti rispetto alla vita quotidiana delle persone, intesa come lavoro, famiglia, relazioni. Quindi la presa in carico non può essere quella esclusivamente circoscritta alle quattro mula della comunità di accoglienza, la comunità terapeutica, ma deve essere una presa in carico più leggera, più flessibile, che tenga conto dei bisogni dei consumatori, ai quali fino ad oggi è stato assolutamente negato il protagonismo, è stata negata la possibilità di un empowerment, di far tesoro appunto dell'apprendimento e di quei sistemi di regolazione e di autocontrollo rispetto al consumo di sostanze. Quindi superare gli attuali modelli anacronistici che si basano su stigma, concetto di pentimento, di morale, di ricaduta, quindi la banalizzazione anche retorica rispetto al tema delle droghe, le frasi fatte che vediamo spesso anche sulla stampa o riportate nella politica, il tunnel della droga, la guerra alla droga, droga zero, tolleranza zero. Mentre invece è importante riuscire a garantire su tutto il territorio nazionale livelli stabili, omogenei, standardizzati di prestazioni, cosa che dovrebbero garantire le LEA, livelli essenziali di assistenza, perché però, come ha detto la collega Pocanzi, non sono applicati, laddove sono applicati sono applicati male, la riduzione del danno ancora sta attendendo atti di indirizzo da parte di tutte le regioni per poter essere, entrare nel sistema dei servizi ad alta integrazione sociosanitaria. Un altro tema molto importante che ci sta molto a cuore è quello del governo delle città. Occorre ripensare assolutamente il governo delle città, che attualmente sono basate su approcci securitari, stigmatizzanti, lo vediamo dai decreti sicurezza, dai lasco urbani, dalle ordinanze, che tendono quindi a escludere, a buttare fuori chi esprime pensieri diversi, chi esprime atteggiamenti che non sono confacenti al comune sentire. Occorre invece rinnovare un'alleanza con i consumatori di sostanze, trarre sicuramente vantaggio dalle loro competenze. Occorre assumere la riduzione del danno e la limitazione dei rischi non solo come pratica e come strumento di lavoro, ma anche come paradigma di interpretazione dei nuovi bisogni, delle nuove emergenze, come luogo del confronto fra gli operatori, delle dipendenze e gli stakeholder, la cittadinanza e la politica. Come giustamente diceva Zinberg, l'approccio deve essere basato su droga set e setting. Set è la psicologia delle persone, la loro modalità di interfacciarsi con la sostanza e il consumo, ma è il setting, il contesto ambientale, il luogo in cui le persone stanno, che determina fondemente anche la qualità della vita dei consumatori, ma anche delle comunità. concludo dicendo quindi che bisogna andare oltre la banalizzazione e la strumentalizzazione di quelle tre o quattro parole che sono strumentali solamente alla politica e ai voti. Occorre assumere l'evidenza scientifica come elemento imprescindibile ed unico per poter esprimere livelli di prestazioni adeguati. Occorre assumere la complessità del nostro lavoro, la complessità del sistema come elemento di cui tenere conto in ogni passaggio, che si tratti di passaggi tecnici, politici, legislativi, e occorre andare quindi oltre le visioni demagogiche che purtroppo le cronache ci riportano ogni giorno. Grazie. Grazie. Un saluto a tutti, sono Alessio Guidotti, il presidente di Itampud. Itampud sta per Italian Network People Use Drug, nella traduzione inglese, nella traduzione italiana, è il network italiano delle persone che usano droghe. L'importanza di questa conferenza, oltre per le cose che sono state dette finora, giustissime e sacrosante e condivisibili, è il fatto che c'è una rappresentanza dei consumatori che è stata voluta, un invito che è stato fatto e questo è sicuramente un grosso punto di cambiamento. tutto. Tutte quante le tematiche che sono state esposte finora sono sacrosante, da un punto di vista politico, da un punto di vista organizzativo, ma perdono totalmente il loro valore se vengono private della presenza dei consumatori, della presenza della voce dei consumatori. Voce dei consumatori che non è qualche cosa di simbolico, c'è il motto niente su di noi, senza di noi, che appunto non è uno slogan, è veramente un orientamento all'azione. Sicuramente nel nostro paese c'è una difficoltà culturale ad avviare un discorso di questo genere, però è un tabù che se non si supera il percorso non inizia mai. Quando si parla di tenere presente le esperienze dei consumatori, ascoltare la voce dei consumatori è una parola detta così semplice, ma nella realtà dei fatti è un percorso che va iniziato, che richiede un cambiamento da ambo le parti, sia dalla parte dei servizi che appunto dalla parte dei consumatori. Sicuramente è un dialogo che va avviato, ma bisogna creare i presupposti che non sempre ci sono. Quindi sicuramente la conferenza può essere un'occasione per incominciare a chiarire un aspetto che è importantissimo, cioè che quel dialogo, la presenza reale dei consumatori, non come qualcuno che va consultato tanto per avere la sua opinione, i consumatori sono quelli che sono al centro di 30 anni di questa guerra inutile che ha fatto più danni che altro. Sono le persone che lo vivono, lo viviamo sulla nostra pelle e quindi è impensabile parlare di un qualche tipo di cambiamento se non si mette avanti concretamente la questione che i diretti interessati, non è che devono avere voce in capitolo, sono i protagonisti di questa vicenda. Quindi è impensabile che si possa parlare di LEA e quali sono i LEA nella riduzione del danno e che a farlo siano persone, a deciderli siano persone che non sanno qual è la reale problematica. Quindi la presenza dei consumatori va anche fatta con delle azioni concrete, non una consulenza che può essere chiesto pure un'opinione, ma piuttosto imparare a lavorare insieme, che ripeto è sicuramente un percorso che va avviato, richiede un cambiamento anche da parte dell'associazionismo dei consumatori, fondamentale per combattere lo stigma è in tutte le occasioni possibili e immaginabili, chiarire che si è in rappresentanza di se stessi, cioè di chi consuma, il dialogo sulle sostanze, sul cambiamento delle politiche sulle droghe e quant'altro si voglia in un'ottica di rinnovamento rischia di essere un cambiamento solo a parole se quella voce, se quella presenza, se quelle competenze, se quelle identità non hanno un ruolo attivo in quel percorso. Ruolo attivo vuol dire per esempio immaginando Ilea trovare dei sistemi, questo farà parte delle cose che noi diremo in conferenza, trovare dei sistemi concreti, reali, effettivi perché ai tavoli decisionali ci sia concretamente, non la rappresentanza di o chi parla per conto di, ma ci siano i consumatori. Oggi le possibilità ci stanno, la conferenza lo dimostra, noi abbiamo praticamente una presenza su tutte le sessioni, la possibilità di esprimerci e confrontarci. È sicuramente un passo avanti, conosciamo gli interlocutori e non è una cosa che è fatta simbolicamente, c'è veramente la volontà. Quindi penso che sia un'occasione da cogliere per un percorso da avviare con delle proposte però, ripeto, concretamente. La presenza del consumatore non deve essere vista come qualcosa che, come c'è da dire, siccome alla fine ha la sua importanza, ci deve stare. Perché molte volte sono tantissime le occasioni in cui si può vedere a livello nazionale di incontri, congressi, conferenze in cui si parla di servizi, di consumi, di questioni tecniche e io lo chiamo il grande assente, chi è? È sempre il consumatore. Se ne potrebbero citare tantissimi. Ripeto, la conferenza speriamo che sia appunto un punto di partenza per avviare un discorso che va costruito ma che sicuramente è l'unico elemento che può dare uno spunto per un cambiamento che sia reale. Tutto qui. Passo la parola a Stefano. Buongiorno a tutti. Stefano Vecchio, Forum Droghe. Ma io vorrei sottolineare che questa iniziativa di autoconvocarsi, una conferenza nazionale, a distanza di... dal 2009, no? È stata organizzata l'ultima conferenza nazionale. È un'iniziativa di una rete ampia di gruppi, associazioni, rappresentanze sindacali, rappresentanze della società civile e degli operatori. Perché credo che questo sia un dato rilevante che fa sì che ognuno di noi, anche se rappresenta un'organizzazione, in questo momento sta presentando un'iniziativa che tra l'altro non si limiterà alle due giornate del 28 e del 29. Poi dirò velocemente perché. Guardate, io vorrei mettere in evidenza un dato che non solo questa guerra dei 30 anni di politiche fondate sul sistema penale e sulla identificazione delle persone che usano droga come dei malati cronici ha determinato dei forti danni, sia in termini di stigmatizzazione, di varie altre cose che proverò a dare qualche dato dopo. Ma questa politica è stata fallimentare, come hanno messo in evidenza alcuni dei suoi protagonisti qualche anno fa con un documento, proprio per gli obiettivi che si era posta. Perché noi dobbiamo evidenziarlo, questo aspetto. Questo tipo, la politica, diciamo, fondata sulla guerra, era una politica che si poneva l'obiettivo di eliminare un ridotto del mercato e di creare una fortissima dissuasione nell'uso di sostanze. Oggi ci troviamo in una condizione in cui l'uso di sostanze è forsemente diversificato e articolato, per me non è un dato negativo, poi dirò perché, ma lo è per chi ha esteso e per gli estensioni di questa legge. E il mercato è un mercato, diciamo, ancora abbastanza attivo, vivo, che si riorganizza e si riarticola sia a livello internazionale sia a livello nazionale continuamente. Ora è evidente che se noi ci troviamo di fronte a questo fallimento degli obiettivi e a danni ingenti determinati da questa politica, bisogna cambiare. Anzi, noi diciamo che dobbiamo attivare un cambio radicale di rotta nelle politiche e dobbiamo passare da politiche che sono incentrate sulla repressione, sulle pene, sulla patologizzazione, a politiche che sono centrate sul governo del fenomeno. I fenomeni vanno governati dal nostro punto di vista, i fenomeni sociali vanno governati attraverso delle politiche adeguate, così come in molti paesi a livello internazionale sta avvenendo. I paesi degli Stati Uniti sono almeno dieci paesi che oggi hanno adottato politiche di regolazione, perché guardate, anche questa tendenza a spostare sul piano ideologico, tutto il discorso come se fosse legato alla posizione ideologica, essere per la regolazione legale, per la legalizzazione, o per la depenalizzazione o contro. Sono politiche di prospettiva rispetto ai fenomeni. Se non funziona una, se ne sperimenta un'altra. Io vorrei darvi qualche numero, perché poi magari dopo Franco o altri li commenteranno, perché è sempre bene considerare poi concretamente come si evidenziano materialmente i danni. Noi ancora oggi ci troviamo, questo lo troverete nell'ultimo libro bianco sulle drogue, che nel 2018 il 35% dei detenuti sono detenuti per violazione dell'articolo 73. Se noi mettiamo insieme le persone che stanno in carcere per l'articolo 73 rispetto alla tossica dipendenza e, diciamoci la verità, i lati di polli per reati connessi, probabilmente arriveremo intorno al 50%. Una stima che è stata fatta, la riportavano nell'introduzione al libro bianco Franco Corleone e Stefano Anastasia. Che significherebbe che se noi adottassimo politiche di depenalizzazione e decriminalizzazione reali, ci troveremmo di fronte a non solo lo sfollamento delle cacce, ma forse anche alla riduzione del numero di istituti di pena nel nostro Paese. Pensate ancora a che l'articolo 75, le cosiddette sanzioni amministrative, che non rappresentano altro che un'estensione del sistema penale, per come sono state configurate, sono state interessate 40.000 persone, delle quali l'80% è consumatore di cannabis, che è la sostanza più normalizzata nella nostra cultura, che è consumata da persone socialmente integrate. Quindi pensate che danno questa legge ha determinato, non raggiungendo alcun obiettivo di quello che si era prefissato. E guardate, il sistema, anche la conferenza, la relazione nazionale al Parlamento, e la quale il Parlamento dovrebbe fare una verifica, diciamo, nelle proprie politiche, ma in realtà non fa altro che fare un monitoraggio, anche lì, se la si legge bene, si evidenziano tutti i limiti di queste politiche. Ed è strano che gli estensioni non se ne siano accorti. Perché quando, attraverso queste indagini che si chiamano IPSAD-ESPAD, fatte sulla popolazione tra i 15 e i 64 anni, e poi sugli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, emerge che il cosiddetto consumo frequente dell'ultimo mese, cioè quello che, diciamo, si avvicina alla tossicodipendenza, riguarda l'1% della popolazione, significa che i nostri servizi, a livello nazionale, sono organizzati per l'1% della popolazione che usa sostanze. E se considerate che questo 1% si ridurrebbe, perché si riferiscono alle persone che nell'ultimo mese hanno usato 10 volte la sostanza, quindi noi tossicodipendenti, vi rendete conto della paradossalità di questo momento, anche dal punto di vista delle politiche e dei servizi. Ora, sempre nella relazione al Parlamento si mette in evidenza che vi è un'articolazione, diffusione di altri modi di usare le sostanze, rispetto a quello della dipendenza stigmatizzata, paratologizzata, eccetera, eccetera. Stili, consumi all'interno dei contesti del divertimento, la movida, che riguardano la nuove povertà, i migranti senza dimora, professionisti articolatissimo, diffusissimo. Noi parliamo di stili e modelli di consumo. Rispetto a questi, che tipo di politiche si pensa di adottare? Noi abbiamo messo in evidenza che, in realtà, rispetto a quest'area di usi e di sostanze, vi sono tutta una serie di esperienze, diffuse ma purtroppo localizzate prevalentemente nel centro nord, realizzate dal terzo settore, di alcuni servizi pubblici, con finanziamenti più o meno precari da parte di alcune regioni, che si riferiscono alla prospettiva della riduzione del danno, che si occupano di tutta questa area, e se ne occupano senza pensare di dover curare delle persone malate, ma avendo due tipi di obiettivi, mettere in sicurezza i contesti, perché non tutto deve essere servizio e non tutto è cura. La maggioranza delle persone deve essere aiutate, facilitate, all'interno dell'illegalità del mercato, a poter elaborare le proprie strategie di uso non rischioso delle sostanze. Un'altra parte interviene nel potenziare le risorse, nel valorizzarle, anche nel prendere in carico le persone che hanno un momento di crisi, per provare a dargli le indicazioni, per poter recuperare un strumento di autoregolazione, anche creando relazioni con l'altro sistema di servizi. Ora, è evidente che, nonostante, lo diceva prima sia Denise Amerini che Fabrizio Mariani, nonostante il nostro governo, non so se per una svista o che altro, o perché c'è stata questa pressione culturale, abbia inserito nell'EA la riduzione del danno, noi abbiamo bisogno che la riduzione del danno abbia un atto di indirizzo della conferenza del Stato-Regione che l'articoli complessivamente. Ma vorrei anche mettere velocemente in evidenza di quanto oggi c'è un peggioramento dello Stato di Salute delle persone che usano sostanze. Ed è tanto più paradossale questo peggioramento se considerate che oggi noi abbiamo a disposizione delle terapie, per esempio per le patologie correrate, per l'HCV, che se il sistema è in grado di diagnosticare velocemente della patologia, le persone ugualiscono. Così come ugualiscono clinicamente le persone con HIV. Oggi c'è, diciamo, il nostro sistema sanitario universalistico non garantisce, grazie a questa legge, le cure a tutti, per tutti. Questo è un dato molto grave, molto drammatico, che dovrebbe essere messo in evidenza. Si capisce, è chiaro, che la lotta, la guerra alla droga è la guerra alle persone che usano sostanze. E noi quando diciamo che vogliamo cambiare sistema verso un governo, pensiamo, verso un governo del fenomeno, pensiamo che almeno due tipi di strategie che sono state ricordate. Una è la depenalizzazione, la decriminalizzazione dell'uso di tutti i comportamenti legati alle sostanze illegali. In secondo luogo, la regolazione legale, la legalizzazione della cannabis, che è la sostanza più normalizzata nei consumi. Due modi di governare il fenomeno. E rispetto a questi due modi di governare il fenomeno, noi dobbiamo ripensare il sistema dei servizi. E noi riteniamo che le nostre esperienze di tutte le varie aree dei servizi di riduzione del danno, ma guardate, quando noi parliamo di prospettiva della riduzione del danno, stiamo parlando non solo dei servizi delle unità di strada, delle strutture a bassa soglia, dei drop-in, delle consulenze verso l'autoregolazione, delle equipe che intervengono nei contesti del divertimento, ma anche di quelle esperienze all'interno di servizi tradizionali, come le comunità e treveri, dei servizi, che oggi stanno mettendo in discussione il modello patologico e lavorano sulla funzionalità sociale delle persone, cioè nell'istituire diritti e dignità sociale. Ora, tutto questo noi l'abbiamo già dentro le nostre esperienze e dentro le nostre proposte di legge. Nella conferenza autoconvocata, e con questo finisco, noi abbiamo pensato di promuovere una carta di Milano con un agente 2020 che il gruppo di lavoro sta coordinando Massimo Oldrini, se vorrà dirci qualcosa dopo magari potrebbe essere opportuno, nel quale noi lanceremo una serie di iniziative che andranno nel senso di dettagliare tutti questi aspetti, tutte le nostre proposte per un governo alternativo. Riproporremo le nostre proposte di legge, io credo che dovremo forse aggiornare la parte dei servizi meglio, proporremo una serie di iniziative diciamo alla società civile, e con questo quindi noi pensiamo alla conferenza non solo come un momento di dibattito, di discussione tra noi, come un momento dal quale emergeranno diciamo delle proposte delle iniziative, ma anche come un momento al quale lanceremo, promuoveremo una serie di iniziative che attraverso le quali noi cercheremo di sensibilizzare il governo e la società civile intorno a queste tematiche. Grazie. Sì, adesso c'è un cambio, chiamo qua Franco Corleone, Massimo Oldrini, e poi alla fine diamo la parola all'onorevole Riccardo Maggi, deputato per i radicali più Europa. Franco, a te. Ma è un'occasione questa per presentare un'iniziativa che nasce dalla volontà, come è stato detto, di una rete di associazioni che si occupano seriamente di questo problema della politica delle droghe e che intervengono nei servizi pubblici o nelle comunità non autoritarie democratiche per affrontare i problemi delle singole persone, non dei tossicodipendenti o dei drogati, ma delle singole persone che sono persone che hanno tutte una individualità da rispettare. Allora, la questione delle droghe è stata declinata nel mondo e in Italia pedissequamente come questione criminale. i dati sono imponenti. Un milione e trecentomila giovani dal 1990 ad oggi sono stati segnalati alle prefetture. È una cifra enorme di criminalizzazione degli stili di vita, dei comportamenti. l'80 per cento sono per essere stati colti nel momento di fumare uno spinello. Allora, è stato ricordato per quanto riguarda il carcere, noi abbiamo una presenza oltre il 35 per cento fra presenza in carcere per violazione dell'articolo 73 che riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti. Ma questa conferenza oltre a denunciare la latitanza del governo perché si dice che l'ultima conferenza è stata nel 2009 a Trieste ma quella conferenza fu organizzata dalla strana coppia Giovanardi Serpelloni Serpelloni a cui mandiamo la nostra partecipazione è stato condannato qualche giorno fa a sette anni di carcere per attività inerenti alla ricerca sulle droghe. Quella conferenza era blindata era impossibile non solo ai consumatori ma a nessun operatore libero partecipare per arrivare a una conferenza degna di questo nome bisogna andare a Genova nel 2000 Allora c'era ancora vivo Don Andrea Gallo noi ci ritroveremo a Milano per non fare un convegno di studi noi dobbiamo lanciare una campagna di lotta molto forte perché siamo di fronte a una falsificazione delle di una costruzione mediatica della droga che fa ridere nel mondo una settimana dopo Milano ci sarà un incontro a Vienna delle Nazioni Unite che forse finalmente piglierà atto del fatto della volontà dell'OMS di mettere in una casella diversa la cannabis perché dico una a Milano dobbiamo lanciare una mobilitazione una mobilitazione di tutti i soggetti che sono interessati perché possiamo questo aggeggio non si sa come fermarlo perfetto deve essere Serpelloni che ringrazia per la solidarietà devo dire che una mobilitazione fortissima perché noi abbiamo dei rischi tremendi adesso ce lo dirà Riccardo Maggi è incardinata nella commissione giustizia della Camera la proposta Salvini per abolire la previsione dei fatti di lieve entità per quanto riguarda il cosiddetto piccolo spaccio questo significa che in carcere da 60.000 noi rischiamo di andare a 70.000 presenze di persone che non hanno alcuna ragione di essere incarcerate come si risponde a questa provocazione di Salvini questo sarà uno dei temi che avremo alla conferenza certo potremmo regalargli un biglietto del treno per andare in Svizzera non molto lontano e a verificare come si attua una politica intelligente in un paese che dovrebbe essere culturalmente non distante potremmo anche regalargli le copie della proposta di legge che io avevo presentato tanti anni fa firmata da molti esponenti della Lega in primo luogo Maroni certo il mondo cambia il fascismo avanza e la Lega di Salvini è questo capite che noi quindi dobbiamo da una parte proporre che l'Italia si metta al passo con gli Stati Uniti noto paese rivoluzionario e dall'altra dobbiamo però per l'Italia salvaguardare cioè proporre i cambiamenti e impedire invece un arretramento così terrificante come quello proposto grazie Franco io do la parola a Massimo Aldrini purtroppo sono costretta a dire a lui e a chi interverrà dopo Antonella Soldo della Luca Coscioni di contingentare i tempi perché abbiamo iniziato un po' in ritardo e ci teniamo anche a dare la parola a Riccardo Maggi prima che ci è obbligatorio anche perché è grazie a lui che siamo qua oggi ecco e prima che ci buttino fuori da questa sala insomma vorremmo che anche Riccardo avesse modo di intervenire io sarò veramente brevissimo Milano il punto conclusivo dovrebbe essere una carta e un'agenda l'auspicio della mia organizzazione che sia una carta e un'agenda che parta da un cambio di prospettive proprio radicali quindi la decriminalizzazione del consumo che in qualche modo determina cascata tutta una serie di altri passi il percorso sarà difficile ringrazio l'onorevole Maggi il percorso difficile è far capire alla politica che stenta a parlare di droghe perché parlare di droghe vuol dire perdere i consensi vuol dire stare diciamo in un mood diverso da quello che ci viene raccontato essere la popolazione italiana ma chissà se questo poi sarà veramente così purtroppo l'hanno già detto tutti le evidenze scientifiche sono drammatiche ci dicono che tutte queste politiche vanno interrotte nel minor tempo possibile questa conferenza io spero davvero abbia come prospettiva quella dei diritti delle persone che consumano le persone che consumano sono diversissime non possono essere generalizzate e devono essere sanate delle cose che oggi esistono che ha accennato per esempio Stefano Vecchio in carcere non c'è nessun diritto alla salute nonostante si consumi nonostante si faccia sesso per normative del 36 è proibito dare condom per cui per esempio tutte le persone di cui parlavamo e quante sono stanno in carcere non hanno accesso a queste cose quindi un cambio di scenario radicale in un'epoca in cui certe cose sono affrontabili l'epatite C è un virus curabile impunemente da anni le relazioni al Parlamento ci dicono che solo il 38% delle persone in carico ai cert vengono testate ecco noi vogliamo cambiare tutto questo l'aiuto dell'Onorevole Magia e di tanti altri colleghi sarà determinante perché questa è la sfida noi purtroppo lo dico anche con un po' di tristezza da tanti anni abbiamo sentito Genova Milano cerchiamo di dire queste cose proviamo a capire se insieme nell'arco di questo 2020 riusciamo a ottenere delle cose davvero radicali anche io la Pidaria ma volevo approfittare della presenza di Franco Corleone e delle persone che ovviamente sono tra i più esperti nel nostro paese su questo tema per aggiungere solo una piccola cosa che la lotta che giustamente Corleone richiamava non è una lotta che noi facciamo contro le istituzioni ma una lotta che facciamo insieme alle istituzioni insieme alle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno fatto quella sentenza che dice l'autocoltivazione non è un reato insieme all'intergruppo parlamentare che Riccardo Maggi sta coordinando in questo Parlamento ma anche insieme ad istituzioni che è importante siano al nostro fianco come la Direzione Nazionale Antimafia che negli anni scorsi ricorderete ha avuto un ruolo fondamentale sotto la direzione di Roberti nel porre il tema della decriminalizzazione scriveva Roberti in una famosa relazione annuale al Parlamento della Direzione Nazionale Antimafia ecco quel documento del 2015 2016 di Roberti è un documento che abbiamo utilizzato un po' tutti abbiamo attinto a piene mani anche per i dati perché portava anche una stima sui costi della repressione in Italia era una stima molto alta sui 20 miliardi ricordo qualcosa del genere però ci sono altri studi dell'Università di Roma dell'Università di Messina che portano cifre più basse ma ugualmente impattanti sulle casse del nostro Stato sui 10 miliardi ecco con Riccardo nei giorni scorsi abbiamo provato a ricercare le ultime relazioni della Direzione Nazionale Antimafia che però non sono state più condotte con la stessa metodologia di Roberti ovvero le ultime relazioni sono delle relazioni semestrali che riportano semplicemente il report delle attività quante attività fatte contro l'andrangheta in quali regioni su quali temi sulla corruzione ma non c'è un'analisi ampia sul fenomeno della repressione sulle sostanze ed è importante averle ed è importante porre anche la questione al nuovo capodipartimento al nuovo direttore della Direzione Nazionale Antimafia perché sono non solo dati preziosissimi ma sono anche delle prese di posizione di un'istituzione che più di ogni altra in Italia ha il dovere e la possibilità di dire la sua sulla decriminalizzazione e sulla legalizzazione della cannabis io telegraficamente perché ci resta poco tempo volevo intanto ringraziare i convocatori di questa conferenza autoconvocata di Milano perché svolgono ancora una volta un ruolo di supplenza purtroppo rispetto alle istituzioni cioè la conferenza triennale dovrebbe essere uno strumento fondamentale per il lavoro dei legislatori cioè dalla conferenza diciamo unitamente alle relazioni e poi magari anche a un dibattito sulle relazioni annuali perché questa è l'altra questione adesso è arrivata questa relazione stiamo chiedendo con alcuni colleghi che ci sia un dibattito in aula se non sarà possibile in aula almeno in commissioni o nelle commissioni congiunte che sono interessate dal tema però dicevo la conferenza è un strumento essenziale per il legislatore per prendere atto diciamo così dei risultati dell'applicazione della normativa e orientarsi in direzione di modifiche della normativa stessa quindi intanto grazie dicevate c'è rispetto al tema delle droghe una banalizzazione una strumentalizzazione io direi in molti casi anche una rimozione noi veniamo da settimane di uno scontro sul tema della giustizia che si è focalizzato unicamente sulla questione della prescrizione chiedendosi poi come attuare delle misure deflattive rispetto ai processi rispetto al numero di processi non si è discusso del motivo principale per cui le persone finiscono in carcere nel nostro paese questo dimostra tutta la distorzione che c'è poi anche da un punto di vista mediatico e da un punto di vista di quello che si offre all'opinione pubblica cioè una realtà appunto distorta e falsata e quindi anche questo è un punto cioè provare a inserirsi in quel dibattito lì che comunque ancora c'è e ancora andrà avanti perché non mi pare che sia stata risolta quella questione o almeno non è stata risolta in modo soddisfacente poi uno spaccato di quello che è lo stato attualmente diciamo nel Parlamento su questo tema tra mille contraddizioni a me pare che ci sia un interesse tra mille contraddizioni da sottolineare all'interno di questa attuale maggioranza per questo tema ne è prova il fatto che siamo riusciti diciamo a ridare vita a questo intergruppo al momento sono 100 i parlamentari che ne fanno parte intergruppo che diciamo nasce con l'obiettivo primo di far calendarizzare le proposte che ora ci sono per una sono diverse sono leggi iniziativa popolare o leggi iniziativa parlamentare per la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati ma che ad esempio ha anche sottoscritto una proposta alla stesura della quale molti che sono qui insomma hanno dato un contributo essenziale che si contrappone proprio alla proposta della Lega la cosiddetta proposta droga zero così è stata presentata con questo titolo diciamo altisonante e distorsivo di modifica dell'articolo 73 ci sono attualmente una trentina di firme di deputati diciamo di tutti quanti i gruppi evidentemente della maggioranza e la prossima questa proposta è stata abbinata alla proposta della Lega e quindi procederà questo è importante da un punto di vista procedurale ma anche da un punto di vista politico l'esame procederà insieme quindi se la Lega vorrà mandare avanti la sua proposta utilizzando quella quota che l'opposizione ha di proposte che può portare in aula inevitabilmente andrà avanti anche l'altra e questo quindi sarà un modo anche per verificare poi che tipo di assunzione di responsabilità o non assunzione ci sarà all'interno della maggioranza martedì cioè domani inizierà un ciclo di audizioni che inizierà con San Patrignano se non sbaglio ma poi ovviamente anche altri e anche molti dei promotori che sono qui della conferenza saranno auditi perché è stata richiesta il loro contributo ecco è credo che anche trovare nel momento della conferenza uno spazio per tentare di coinvolgere evidentemente prima di tutto i rappresentanti del governo ma anche i rappresentanti del Parlamento diciamo che già soffre diciamo delle sue mortificazioni delle sue competenze secondo me può essere può essere un ulteriore tentativo che va fatto io vi ringrazio ancora perché penso insomma che fate un lavoro un lavoro essenziale soprattutto a quello che dovrebbe essere il lavoro dei legislatori grazie che Grazie a tutti